Il PD ha votato Mattarella, cioè soltanto voi... Alfano ha votato Mattarella, una parte di Forza Italia ha votato Mattarella, sono entrati e hanno votato scheda bianca. Qui è in piedi un ricatto incrociato tra le forze politiche. Già io lo dicevo questa mattina, è falso che il patto del Nazareno non esiste più, Berlusconi e Renzi continueranno a fare i loro interessi, gli affari. Abbiamo visto il comportamento di Alfano, di Nunzia di Girolamo, che fino a qualche ora fa non dovevano votare Mattarella e poi con il piccolo ricatto del posto di lavoro da Ministro dell'Interno oppure del piccolo partito che magari andando a elezioni non rappresenta più nessuno, hanno tenuto. Quindi comunque si eleggono le persone in base a dei piccoli e grandi ricatti in forma non trasparente. E noi quindi siamo contenti di non essere entrati in questo gioco perché oggi se la nostra forza politica abbandona il suo modello, la sua onestà e la sua coerenza fa come tutte le forze politiche che sono entrate in questo palazzo. E questo sarebbe il tradimento fatto ai cittadini, che noi non faremo mai. Noi siamo qua per migliorare non solo le norme, le leggi e applicare il nostro programma e la nostra visione di mondo ma anche per resistere e non diventare come gli altri nell'interesse dei cittadini, innalzare la qualità culturale del Paese.